Ma che cazzo abbiamo visto? Ma che cazzo è successo? Ma abbiamo visto Real Madrid o Napoli? Ma abbiamo visto Napoli? Cioè, noi indossavamo la maglia bianca Maglia bianca, ok Ma va arrivare a Madrid? Ma che cazzo è successo? Cioè, voglio, dopo mesi Finalmente abbiamo visto una partita In totale tranquillità In totale serenità In totale proprio... Proprio rilassati Mamma mia, da quanto tempo Alleluia Alleluia Finalmente Che poi, bello E che abbiamo visto anche un bel gioco Un gioco fluido Che era da mesi Che non vedevo sto gioco Era da mesi Mamma mia, grazie Oggi Bisogna dire grazie ai ragazzi Che finalmente hanno onorato Dopo diversi mesi Di bestemmia Avere onorato Lo scudetto E di aver rispettato I tifosi presenti Lì al Mavestadio Complimenti Allora Parliamo seriamente adesso il Sassolo è una squadra scarsa peggio peggio degli anni scorsi e va in serie B ma molto probabilmente va in serie B perché poi hanno preferito prendere un allenatore dalla primavera piuttosto che prendere un allenatore esperto però però per chi dice non vi esaltate fare sempre i galletti i rompicazzo perché quando perdiamo quando vinciamo hanno sempre ricevuto qualcosa hanno sempre tenuto qualcosa in boc però oggi era importante al di là della vittoria però dei piccoli segnali in più dei passi avanti soprattutto dal punto di vista del gioco col Barcellona e col Cagliari abbiamo visto dei piccoli movimenti dei piccoli meccanismi che Calzona voleva oggi si è visto il doppio si è visto di più si è visto molto di più al di là ripeto del Sassuolo è inutile ripetere la mia frase una rondina che non fa primavera perché io adesso in Napoli voglio la continuità hai vinto oggi perfetto devi vincere con la Juve poi devi vincere si spera col Barcellona devi vincere le prossime partite ok le devi vincere però ripeto oggi ho visto un bel Napoli un Napoli che io nel primo tempo appena ho visto un po' la situazione ho detto approfittiamo di questa partita per creare degli automatismi per creare dei movimenti per ritrovare dei movimenti e delle sicurezze il Napoli è partito benissimo con diversi tiri poi classico gol perché Ossigard runte nel palla di lanciarle la dà a meretti che automaticamente la manda in rimessa laterale e dalla rimessa laterale scatolisce il gol anche là su ribattuta che noi buttiamo la palla fuori la palla va direttamente al giocatore Sassuolo ma va bene però poi il Napoli reagisce benissimo con una tripletta di Osiman con una doppietta di Kovarascheglia che finalmente si sblocca anche dal punto di vista realizzativo e vaffanculo a coloro che dicono non me Kovarascheglia sta giocando male voglio Kovarascheglia insieme a Lobotka e diciamolo anche a Osiman al di là del comportamento bambinesco che ha avuto nei social sono gli unici che stanno giocando bene ok in questa stagione diciamo e cosa come stanno poi ha segnato Rachmani su assist di Tacco di Anghissà assist di Tacco di Anghissà però il giocatore più lucido più funzionale più utile che serviva come il pane oggi è stato Ahmed Traoré giocatore fondamentale un giocatore che tatticamente a questo Napoli serviva dopo un Sieliski che stava in San a Milano si inseriva negli spazi veniva a prendersi il pallone stava sempre solo dove si muoveva la palla si muoveva lui bene bene Traoré bene Traoré bravi tutti tranne Ostigard perché Wayu nel primo tempo abbiamo rischiato un botto difensivamente però Wayu ai Ostigard ai Rachmani che poi tra parentesi Rachmani ha giocato bene cioè Rachmani stava da solo Rachmani oggi stava da solo Ostigard Wayu Ostigard coi piedi mamma coi piedi Wayu coi piedi è qualcosa di osceno coi piedi poi coi colpi di testa non ne ha fatti perché Sassuolo non lanciava mai lungo ok quindi non ha non ha potuto sfruttare la sua dote diciamo migliore ok nei punti di testa e nelle elevazioni ma nella marcatura ma io ma sapete ma la calzona ha da fare un vero miracolo che ha difeso ma era lui bravo di Lorenzo un inizio un po' incerto però poi si è ripreso ma alla fine tutti hanno giocato bene hanno giocato bene ma ripeto non bisogna esaltarsi io non vorrei che questa partita sia solita la solita partita da fumo negli occhi però tre punti importantissimi una vittoria convincente una vittoria che non vedevo da mesi e che spero che che ci dà l'avvio del del proseguo della stagione un un avvio per la nuova stagione cioè ma io ci mancano dodici partite dodici più Barcellona mi sembra quindi facciamo passare questi partiti vediamo calzona cosa darà e dirà in più mi incuriosisce la non sostituzione di Lindstrom di oggi però non potevi togliere Cavaraschelia questo è l'importante complimenti ai ragazzi complimenti a Calzona che ha fatto anche le sostituzioni giuste togliendo anche Rachmani che era diffidato però il Sassuolo alla fine nel secondo tempo non ha fatto proprio niente non ha fatto proprio uno cazzo quindi ciao va benissimo così ma io va benissimo così mo bonzam alla Juventus ce la possiamo giocare se entriamo con lo stesso piglio con la testa con la stessa fluidità con la stessa voglia con la stessa con la stessa alchimia ecc la stessa partita di oggi lasciando stare che lasciando stare che la Juve non è Sassuolo lasciando stare questo però basta un po' di applicazione e un po' di voglia tanto ripeto sono 12 partite con il man pressa quindi non ci fate più intossicare e io sono contento ma io fatemi sapere la vostra forza per sempre grazie ragazzi e ciao a io